Grazie a tutti. Nessuno mi può dire niente. Su questo l'Europa cubri e avremo dopo domani il 3. Lo abbiamo detto a proposito degli ex detenuti di Guantanamo, se c'è bisogno per loro di una protezione evidentemente la protezione sarà accordata. Non entro nei particolari sull'arrivo in Italia del terzo ex detenuto di Guantanamo. Come sapete ieri sera un magistrato, l'altro ieri un magistrato di Milano si è lamentato perché alcuni mezzi di informazione hanno dato notizie sull'arrivo in Italia dei primi due. È ovvio che io non voglio continuare a dare notizie sull'arrivo del terzo, quindi mi dispiace ma su questo non rispondo. Terzo tema è vero, gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di accogliere altri ex detenuti di Guantanamo, ci hanno dato delle liste di nomi dei casi che stiamo esaminando uno per uno. Abbiamo detto e confermiamo che vi è una disponibilità di principio il trasferimento in Italia ma vedremo, la disponibilità di principio rimane come è stato detto dal Presidente Berlusconi al Presidente Obama.